Si può dire che quando io vado lì con i clienti non ha il Green Pass, quindi può ripetere che io non ne ho bisogno, i clienti sì, ma io no, me lo può ripetere per favore, le lo faccio vedere. Allora, sono l'avvocato Fusillo e assisto le persone vittime della normativa sul Green Pass. Per quanto riguarda i musei, ma tutte le attività previste dal decreto legge 105, la norma prevede la necessità del Green Pass per gli utenti, non per quelli che lavorano all'interno delle attività. Per i ristoranti è chiarissimo, ma è chiaro anche per le altre attività e tra le altre cose, non lo dico io, ma l'ha detto il Presidente della Camera, Fico, e l'ha detto il Sottosegretario Sileri. Chi lavora non deve essere discriminato in ragione del Green Pass, quindi la richiesta che le guide turistiche siano punite di Green Pass è illegittima. Attenzione, una richiesta di questo genere comporta delle responsabilità penali, perché se io impedisco a una guida turistica di fare il suo lavoro perché non ha il Green Pass, questo è un reato, 610 del codice penale, violenza privata. Il mio consiglio a tutti i clienti che hanno subito un trattamento di questo genere è denunciare i gestori dei musei o delle altre attività che impediscano l'accesso. Quindi occhio perché si incorre in responsabilità penale. Grazie mille, grazie a tutti.